Passa qua, voglio dire, guarda. E' pieno che si fa. E' una regla, eh? Ma ma c'è lo domani. E' una regla. E' un po' c'è da riusciglia lei non ui bu 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 Oh, chi è? E' il colpo? Aspetta che ha sparito la camera! Oh! C'è lì 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 lì! Oh! 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 E' il colpo! E' il colpo! Che essere qui! Sei qui... C'è un po' di sé! E' 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 un po' di sé! Spengo Ma scendere, come mettete qua? Quanto ci sta a mettere? Un quarto d'ora? Quanto ci sta a mettere? Che faccio? Mi la preparo questa borsa? Perché sì? E' veramente l'ho visto? Ma che faccio? Ma la preparo questa borsa? Sì, ho un senso che sta a fare. Grazie a tutti.